Allora, l'obiettivo di oggi è quello di proseguire la nostra analisi dell'ereditarietà in Java e lo facciamo con qualche esempio relativamente semplice. Iniziamo dagli esempi e poi facciamo qualche richiamo sulla parte di teoria. Allora, qui vi ho creato in Eclipse un folder in cui metto qualche esempio di ereditarietà, quindi vado a mettere una nuova classe con un main, esempio, base di ereditarietà. Allora, invece di andare a costruire delle classi, noi, che possono sfruttare l'ereditarietà, quello che invece vi propongo, che è un po' diverso da quello che trovate sulle slide, così avete anche un esempio aggiuntivo un po' diverso, è di partire dalla classe che si chiama Number. Number è una classe definita in Java, che è una classe di base per tutte le classi wrapper numeriche, quindi Integer, Float, Double, Byte, Short, Long. Vabbè, esistono anche Big Decimo e Big Integer, che sono delle classi pensate per andare a memorizzare i valori che non stiano nei soliti 64 bit, ma su questi ci torniamo dopo. Quindi l'idea è, noi abbiamo una classe di base, che è Number, adesso vi disegno il diagramma, così ce l'avete più evidente anche in termini grafici. Allora, creiamo il diagramma delle classi. Allora, vi stavo dicendo, abbiamo una classe Number, queste classi sono già definite all'interno di Java, e quindi delle librerie Java standard, quindi non dobbiamo creare, sono già date, e con queste relazioni di ariturietà. Abbiamo poi una classe Integer, Double e Long. Queste tre, più altre, ok? Non ve le rappresento tutte. Queste classi sostanzialmente estendono la classe di base Number. Abbiamo visto che l'ereditarietà in UML si indica con questa freccia con la punta a triangolo, vuota, e significa sostanzialmente che la classe che sta in basso eredita dalla classe che sta in alto. A questo punto, cosa vuol dire? Vuol dire che noi, quando abbiamo un oggetto di tipo Number, quando abbiamo un riferimento di tipo Number, possiamo andare a chiamare tutti i metodi che sono definiti dentro Number. Inoltre, possiamo anche andare a memorizzare un qualunque oggetto di una delle classi sottostanti. Ok? Quindi, riapro Eclipse. L'idea è che io posso avere un riferimento di tipo Number, n, uguale a, ad esempio, New Integer. Abbiamo oggetto Integer. In realtà, New Integer è meglio da utilizzarlo. Integer. Value of 42. Una volta che è un Number, posso andare a sommarlo con un altro Number, m, è uguale a Integer.Value of 37. E posso fare m più n Int Somma uguale a M più n. O meglio, questo è quello che mi piacerebbe fare. Il punto è che, ovviamente, non esiste un metodo più o un operatore più che funziona sui Number. Esiste un operatore più che funziona sugli Integer. quindi quello che dovrei fare è fare m. Int Value più n. Int Value. Quindi vado a prendere dei due numeri valori Int, li sommo e vado a stampare il risultato. Se eseguo questo codice il risultato è che la somma è 79. Il tutto funziona benissimo anche se io qui invece di fare Integer.Value of di 42 vado a rimpiazzare questi con Double Double Invece di mettere 42 metto 42.1 e 37.3 Quello che sta qui sotto è sostanzialmente lo stesso codice sia che io passi due numeri di tipo Double sia che passi due Integer. Salviamo, rieseguiamo e otteniamo esattamente lo stesso valore. Potrei anche metterne uno Integer e l'altro Double. e di nuovo non cambia assolutamente nulla. Quindi l'idea è che questa somma è in grado di fare la somma indipendentemente dal tipo effettivo del valore originale. Problemi con Integer e Double non saprei bene quali possano essere l'errore mi sembra strano di metterli come come number e se li mettete come somma sì ma verificate di aver scritto esattamente il codice in questo modo. Allora number è una classe di base per i valori Integer Double Long eccetera IntValue lo possiamo vedere nella documentazione è uno dei metodi definiti dentro la classe di base quindi esiste una classe di base che è la punto number al suo interno esiste un metodo che si chiama IntValue che restituisce un Int esiste anche un Double Value che restituisce un Double e visto che ci siamo un Long Value restituisce un Long qui dentro ci sono questi diversi metodi e io li posso chiamare tranquillamente a partire da un riferimento di tipo number quindi l'idea è questi metodi qua ci sono sicuramente in tutte le sottoclassi se io vado a prendere una sottoclasse andiamo a prendere Integer per esempio oltre a quei metodi ne ho degli altri ad esempio il metodo compare per andare a confrontare due valori interi o scusate metodo compare to oppure ho il valore byte value che ah no c'era anche qua scusate stavo cercando un un valore che non fosse qui sono tutti i metodi statici stavo cercando un un metodo che non fosse definito praticamente i metodi fondamentali sono già tutti presenti lì e quindi io posso utilizzarli tranquillamente questo vuol dire che scusate qua immaginiamo di volere definire un metodo generico che prende un array di valori di tipo numerici tipo wrapper e li sommi ovviamente io potrei qui andare a mettere uno static int somma di integer quadre valori poi ne metto un altro per i double poi ne metto un altro ancora per i long eccetera oppure posso mettere un unico metodo che mi restituisce come valore un double e che riceve dei number come valore quindi double result uguale 0.0 for number n in valori result più uguale a n punto double value e return di result per cui qua dentro io potrei tranquillamente andare a costruire un array di number valori uguale new anzi mettiamo con inizializzazione statica integer punto value of 42 virgola double punto value of 3.141 long punto value of 1 miliardo 735 milioni 432 mila e 913 in java io posso separare dei numeri con un underscore come separatori e lo posso utilizzare come separatore ragionevolmente delle migliaia ok quindi questa cosa qua è molto più leggibile rispetto a scrivere il numero tutte le cifre decimali appiccicate una all'altra e posso andare ovviamente a calcolare la somma totale uguale somma di valori scusate io metri totale e quindi mi stampa il risultato della somma di questi tre valori domanda ottima domanda se i valori fossero una rea di riferimenti integer potrei comunque passarlo al metodo somma la risposta è sì quindi io posso fare un integer array interi uguale 1 2 3 5 8 13 21 e posso andare a fare somma di interi quindi 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 questo comportamento il fatto che se se lo scrivo qua se A extends B allora array di A extends array di B si chiama si chiama covarianza si chiama nel senso che se ho l'ereditarietà tra gli elementi di conseguenza il linguaggio mi dà anche mi dà anche l'ereditarietà tra i contenitori in particolare gli array di quegli elementi attenzione però la covarianza è pericolosa ok problemi derivanti dalla covarianza è molto comodo perché io qui posso passare ovviamente un array di numeri posso passare un array di interi posso passare un array di double e questo metodo di somma funziona benissimo evito di dovermi fare un array per gli interi un array per i double eccetera 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 quindi sostanzialmente posso mettere un manager in array di dipendenti ma non viceversa certo anche qui una volta che io gli interi se io provassi a mettere interi di zero il primo elemento uguale a non so 3.14 mi dice non riesco a fare un cast ma neanche se metto double punto value of di 3.14 quindi metto proprio l'oggetto double il problema è che da una parte ho un double dall'altro ho un integer la relazione la relazione tra i due è che double e integer hanno lo stesso classe di base ma sono due classi diverse quindi se double fosse una classe derivata da integer potrei fare quello ma in questo caso no e quindi posso sempre vedere un oggetto più specifico tramite un riferimento più generico quindi il riferimento generico in questo caso è number l'oggetto più specifico è integer o double esattamente come manager impiegato posso utilizzare un riferimento di tipo employee per puntare a un oggetto di tipo manager quindi un riferimento di tipo più generico per un oggetto di tipo più specifico domanda ok allora ve lo copio direttamente dalla chat così lo vediamo allora ovviamente questo non funziona però se io ho un double e faccio value of di 4 questo funziona questo funziona perché automaticamente c'è una conversione di tipo da intero a double ok quindi proprio conversione di tipo esattamente come se io scrivessi di uguale a 4 ok anche in questo caso non mi dà problemi perché c'è una conversione di tipo quindi va a memorizzare il contenuto del dell'intero 4 trascodificandolo secondo la notazione IEEE 754 quindi di floating point ok e come si effettivamente se io andassi a fare qua un cast a double scusate allora il problema si pone anche se io avessi qua un int di uguale double punto value of 3.14 voi vi chiederete perché questo funziona e quest'altro no perché sostanzialmente questo è una conversione senza senza perdita di informazioni mentre invece qui ho una perdita di informazioni ovviamente posso posso io andare a forzare la conversione quindi sicuramente posso andare a mettere I uguale conversione a int di 3.14 mi dico fammi la conversione e lui me la fa quindi questo è esplicito e gli dico sostanzialmente fidati fammi questa conversione e quindi il compilatore dice va bene se tu mi dici che vuoi una conversione in un tipo che porta a perdere delle informazioni perché in generale quando ho un double tutta la parte decimale se la converto in un intero me la perdo se lui dice se a te sta bene io ti faccio la conversione in questo caso invece quindi partendo da un intero e andando a un double la conversione viene fatta automaticamente perché non c'è paese di informazioni nel senso che nella parte intera non ho una parte decimale il double ha oltre la parte intera anche la parte decimale e quindi sostanzialmente non si perdono informazioni allora in teoria non si perdono informazioni ok ci sono l'avete visto andando a studiare la notazione in virgola mobile ci sono alcuni numeri anche interi che non è detto che vengano rappresentati in maniera esatta in virgola mobile quindi potenzialmente potrei avere una piccola perdita di informazioni ma diciamo che nella maggioranza dei casi questo non succede mentre invece se passo da un floating point a un intero sicuramente la parte decimale me la perdo per cui il linguaggio decide di farmi una conversione automatica da intero a double e invece di non farmela quindi chiedere a me di fare la conversione se invece è in senso contrario non posso fare il cast di value of no in realtà sì anche qui potrei mettere un int allora scusate non un int ma dovevi fare un integer perché no scusatemi quello che potrei fare qua è fare un cast a a number ok adesso ci arriviamo parlando di conversioni domanda a linea 39 se metto la virgola al posto del punto mi dà errore allora il linguaggio C prevede che i valori in virgola mobile abbiano un punto quindi quello è un letterale del linguaggio Java e nel linguaggio Java come nel linguaggio C i letterali dei valori in virgola mobile hanno il punto ok non c'è nessuna localizzazione chi ha fatto Java come chi aveva fatto C non è stato così deficiente come chi ha fatto Excel di andare a convertire tutti i nomi delle funzioni e cambiando tutto ok il linguaggio è quello quindi 3.14 è il modo in cui io vado a esprimere il valore diverso è il caso in cui io abbia una stringa una stringa 3.14 e voglia convertirla in un valore floating point allora in questo caso se voi avete diciamo l'impostazione locale in italiano ecco questo verrà convertito nel valore 3.14 correttamente viceversa se avete il locale inglese pretenderà un punto ok però quella è la conversione da una stringa a un double e quindi cambia cambia molto ok il linguaggio prevede il punto allora int number di double non dà errori allora sì perché è un pochettino più complicato però sì ragionevolmente però è un azzardo ok adesso finisco il discorso che vi facevo prima su la covarianza ok allora abbiamo detto che se io ho un array di interi questo è considerato come una sottoclasse di array di numeri ok quindi io posso andare a mettere a prendere questo array qua di interi e andare a mettere interi come numeri un array uguale a interi questo è un cast da interi a numeri a questo punto prova a mettere interi come numeri di zero uguale a double punto value of 3.14 c a questo punto metto int p uguale interi di zero secondo voi che cosa può succedere allora che valore mi ritroverò in p allora 3 3 effetto una conversione per abbiamo tipi primitivi si perde la domanda si perde la precisione della virgola perdo informazioni sicuramente voi però state dando per assunto che questa cosa qua funzioni e non è detto allora da un punto di vista sintattico vedete che il compilatore non mi segnerà nessun errore non è un intero e quindi non si può fare esattamente allora scusatemi ho un errore e non capisco ah qui allora scusate commento queste due linee che sono anzi queste tre linee che mi danno un errore e provo ad eseguirlo java lang array store exception ok mi dice java lang double ovvero sto cercando di memorizzare dentro un array di interi un riferimento a un double ok come abbiamo visto prima se ho un riferimento a double e cerco di assegnargli un riferimento a intero mi dice non si può fare perché sono due oggetti distinti ok hanno la stessa classe di base ma tra di loro non sono uno derivato dall'altro e quindi con questo trucco io ho fatto credere al compilatore che in realtà interi come numeri fosse un array di number e a questo punto il compilatore mi dice sì double dentro un number lo posso mettere il problema è che quando cerco di farlo effettivamente con durante l'esecuzione la virtual machine mi dice no guarda che non puoi quello è un array di interi anche perché se me lo lasciasse fare qui che cosa dovrei ottenere dovrei ottenere il riferimento all'oggetto double ok quando io faccio la grossa differenza allora il tutto avrebbe funzionato se interi fosse stato un array di number ok il tipo base dell'array era giusto essendo un array di interi di integer il tutto è impossibile quindi il grosso il problema è qui ok sull'assegnazione l'assegnazione mi dice non è fattibile la causa è il fatto che questa conversione qua è considerata corretta da java è considerata corretta perché mi trovo ad avere comodo comodo metodi come questo che ricevono un array di number e non mi devo preoccupare più di tanto ok e quindi attenzione tutto ciò è dovuto a un fraintendimento di che cosa serve un cast e come funziona un cast ok vi faccio questa piccola introduzione poi torno eventualmente se avete ancora dei dubbi rispetto alle domande che mi state facendo in chat se io ho un intero i è uguale a 42 e ho un double f e dico f uguale a i ok posso anche dire i è uguale a f ok questo non me lo fa fare perché è una pedia di informazioni come dicevamo prima lo posso fare se io metto qua un cast a intero anche questa scrittura qua f uguale a i in realtà implicitamente è f uguale cast a double di i queste due operazioni che faccio qui si chiamano si cast nel senso che questa scrittura qua un tipo tra parentesi tonde si chiama cast ma di fatto questi sono delle conversioni di valore ok prendo i 64 bit dell'intero li riorganizzo nei 64 bit di un numero floating point quindi cambio completamente il contenuto del valore di che c'era in i e lo metto dentro f oppure viceversa quindi converte effettivamente il valore del tipo primitivo quando io vado a mettere number n ve lo metto taggraffe così riscrivo qua i allora n ve lo raddoppio allora diciamo così abbiamo un number nn e diciamo nn uguale a integer appunto value of di il nostro solito 42 questa non cambia nulla nell'oggetto ok questa è una semplice è una conversione del tipo di riferimento l'oggetto non viene modificato infatti posso andare a fare l'operazione inversa integer i uguale a nn questo non lo posso fare perché ricordatevi la versione diciamo così insiemistica dell'ereditarietà e vi recupero il volo employee è un po' come fosse integer scusate come fosse number manager è un po' come fosse integer quindi tutti i manager tutti gli integer sono anche dei number ma non è vero viceversa è possibile che ci siano dei number che non sono degli integer per cui mentre questa conversione di tipo è sempre corretta nel senso che qualunque integer è anche un number perché integer è una sottoclasse di number questa conversione qui il compilatore non mi dice non me l'accetta come sempre corretta perché n potrebbe puntare non a un integer ma a un altro oggetto un oggetto di un altro tipo che non è integer potrebbe essere un double a questo punto non riesco a fare la conversione per cui qui non è questione di perdita di formazione o altro è proprio questione di compatibilità in questo caso devo andare a mettere un cast a integer anche in questo caso si tratta di una conversione di tipo di riferimento quindi l'oggetto è esattamente sempre lo stesso ok se vi faccio così integer 42 uguale a questo qui metto 42 qui non devo mettere necessariamente quello che si chiama l'app cast cioè il cast verso la classe più generale lo posso mettere ma è implicito a questo punto system.out .println nn è uguale a anzi facciamo così 42 è uguale a i ovviamente scusate vi commento questo perché altrimenti si blocca tutto allora ci manca un punto e virgola non so dove ah qui scusatemi ovviamente mi dice true perché è esattamente lo stesso oggetto e potrei anche andare a fare il confronto tra nn scusate n minuscolo e i e anche questo ovviamente mi darà true nel senso che i riferimenti sono esattamente gli stessi ricordatevi che quando faccio un uguale uguale tra riferimenti vado a controllare se sono lo stesso oggetto ok quindi questo è quello che si chiama labcast questo è quello che si chiama il downcast l'upcast io lo posso fare senza un cast esplicito oppure con un cast esplicito ok questo qua è un upcast esplicito mentre invece il downcast richiede sempre e comunque il cast esplicito quindi il downcast deve essere sempre esplicito perché perché sostanzialmente tutti gli interi sono numeri ma non tutti i numeri sono interi ok non tutti i numeri sono interi mentre invece questo qua lo posso mettere tranquillamente implicito ed è sempre corretto perché tutti interi sono dei numeri ed è quello che ci dice la realitarietà integer deriva da number quindi tutti gli interi sono anche dei number ok e il polimorfismo sfrutta sostanzialmente questa proprietà a questo punto voi direte sì ma in realtà l'oggetto puntato è sempre lo stesso cosa serve fare un upcast e non downcast allora l'upcast mi serve perché in questo modo io posso trattare eventualmente oggetti di tipo diverso nello stesso modo ok quindi qui io ho fatto un upcast dentro valori quassù qua dove ho fatto i miei numeri qui valori qui ho fatto una serie di upcast da integer double long a number a questo punto dopo che ho fatto l'upcast posso tranquillamente chiamare la mia somma passando number e quindi questo mi permette di avere di scrivere del codice generico che opera sulla classe di base e l'upcast mi permette l'applicazione di questi metodi generici come questa somma l'upcast lo posso fare eventualmente anche su più livelli sì ok a questo punto a cosa serve il downcast il downcast serve perché è possibile che alcuni metodi siano presenti nella classe derivata integer e non nella classe di base number quindi ricordiamoci cosa fa il compilatore il compilatore quando io scrivo riferimento punto metodo va a vedere il tipo del riferimento e se nella classe di quel tipo di riferimento esiste il metodo mi dice va bene se non c'è non me lo lascia fare quindi se io devo invocare un metodo che è presente in integer ma non è presente in number allora ho la necessità di fare un downcast per avere un riferimento al tipo integer il cast cambia esclusivamente il tipo del riferimento non tocca in alcun modo l'oggetto l'oggetto è sempre quello ok quindi in questo caso abbiamo nn 42 e i che puntano tutti e tre allo stesso oggetto e quell'oggetto è quello che abbiamo creato qui ed è un oggetto tipo integer quindi il caster non fa una conversione dell'oggetto fa una conversione del riferimento l'oggetto resta sempre quello quindi abbiamo tre riferimenti due integer e una number che puntano allo stesso tipo oggetto quindi il downcast sostanzialmente mi permette di andare a verificare che quel l'oggetto sia effettivamente un intero e di poter poi successivamente chiamare i metodi tipo integer una volta che ho il riferimento i di tipo integer posso chiamare i metodi di integer se uso nn nn non mi permette di chiamare dei metodi che sono in integer ma non in number torniamo alla nostra somma di prima immaginiamo di voler fare una somma che invece di sommare i valori convertiti come vengono convertiti automaticamente ci sia una somma arrotondata in alto all'intero all'intero superiore questo vuol dire che se i vostri number sono degli interi e l'intero è quello se sono dei long sono quelli se sono dei valori di tipo double ecco dovrei e andiamo qui a restituire diciamo un long se sono dei double li devo arrotondare all'intero superiore ovviamente su int e long non mi cambia nulla quindi il risultato abbiamo detto che è un long lo chiamiamo risultato mettiamo 0 sommiamo non double value ma long value tranne nel caso in cui il nostro number sia un double a questo punto come facciamo a sapere se è un double possiamo utilizzare l'operatore che si chiama instance of quindi se il nostro number instance of double allora vado a fare l'arrotondamento altrimenti diciamo che sono interi e long faccio semplicemente la somma a questo punto invece la somma è result più uguale n punto vado a prendere il mio double value ma su questo faccio un mat punto seal ovvero a rotondo all'intero scusate all'intero superiore se normalmente la conversione che cosa fa mi tronca la parte intera è stata la parte decimale e mi lascia la parte intera quindi quando io ho un riferimento di una classe di base posso sempre andare a verificare se quel riferimento punta a una specifica classe derivata double e ad esempio in questo caso sapendo che è un double vado a prendere il double value e a rotondo all'intero superiore questa è una possibile scrittura un'altra possibile scrittura è invece di fare double value vado a fare un cast a double e sfrutto quello che si chiama unboxing ok alla fine vado a chiamare double value ok quindi questo ci suggerisce il fatto che ovviamente la virtual machine in ogni istante dato un riferimento sa a che tipo di oggetto punta attenzione questo lo sa la virtual machine in fase di esecuzione noi quando scriviamo il codice come questo non sappiamo se un certo n che stiamo trattando in una data interazione del nostro ciclo è un double o no e quindi dobbiamo andare a testare se effettivamente è di quel tipo se è di quel tipo lo trattiamo di conseguenza ok quindi fondamentale ricordare che quando parliamo di tipi impliciti c'è una vera conversione di tipo di valore ok quindi vado effettivamente a prendere i bit dell'intero e li converto nei bit della notazione floating point quando un cast non tra tipi primitivi numerici ma bensì tra classi ok un upcast esplicito o un downcast che è sempre esplicito l'oggetto non cambia nulla quindi i bit del valore che stanno lì dentro non vengono toccati quello che cambia è il tipo del riferimento a cosa serve avere il tipo di riferimento diverso riferimenti più alti mi permettono di avere codice più generale ad esempio quel metodo di somma riferimenti più specifici mi permettono di avere la possibilità di chiamare i metodi di quella particolare classe più specifica che ovviamente non sono definiti nella classe di base ok l'upcast diciamo implicito viene fatto anche quando si utilizza la covarianza quindi quando si utilizzano gli array ok la covarianza è molto comoda perché io posso tranquillamente passare alla mia funzione somma un array di number ma posso anche passare un array di interi o un array di double tuttavia è pericolosa perché devo stare molto attento e devo evitare che qualcuno provi a scrivere dentro un array dei valori che magari non sono del tipo corretto perché questo mi porta a un errore in fase di runtime domanda tra i tipi primitivi il cast cambia il tipo sì ma non è dell'oggetto è della variabile sì e quindi quando faccio un cast da floating point a intero dentro i viene memorizzato la rappresentazione in complemento a due del numero che stava dentro f che era rappresentato con la notazione floating point mantisse l'esponente attenzione io posso fare la conversione tra int e double perché cambio il contenuto non posso fare una conversione da integer a double perché i due oggetti sono proprio diversi ok non sono legati ad ereditarietà e quindi non posso avere un riferimento integer che punta a un double o viceversa ok è importante ricordarsi questo dettaglio è un'altra che di non Ok, bene, allora abbiamo visto instance of, instance of mi dice se sostanzialmente, l'abbiamo visto qui, scusatemi, quindi dato un riferimento a una classe di base, number, posso utilizzare instance of per vedere se quel riferimento punta a un oggetto di tipo double, integer, o una classe che deriva dalla classe di base number. Attenzione quando utilizzate instance of perché instance of non vi dice il tipo esatto, ok? Vi dice semplicemente se ragionevolmente voi potete fare tranquillamente un cast a quella classe, quindi se andiamo a prendere ad esempio le classi employee, manager e CEO, quando io ho un'istanza di employee, ho un oggetto di tipo employee, ma l'instance of di manager mi dà falso e l'instance of di CEO mi dà falso. Se io ho un CEO, posso verificare se è instance of di employee e in questo caso mi dà true. Perché un CEO è anche un employee, ma è pure un manager, ma è anche un CEO. Quindi se volete l'instance of mi dà una valutazione che corrisponde a quella che è l'appartenenza a un insieme. Quindi se io ho un oggetto CEO, posso andare a dire quell'oggetto appartiene all'insieme CEO, sì, appartiene all'insieme manager, sì, perché è un sotto insieme, appartiene all'insieme employee, sì, perché è un sotto insieme, è un sotto insieme. Domanda, quindi se noi mettessimo un instance of number, darebbe sempre sì. Un integer è un instance of di number, un double è un instance of di number, sicuramente. Ok, quindi volendo scriverlo in codice, con i nostri integer, quindi i, instance of di number, è vero, se volete possiamo fare un così, e il risultato ovviamente è quest'ultimo true, nel senso che un intero è un'istanza, è un caso particolare di number. Stessa cosa con un double, ovviamente, non sto a farvelo, ma la logica è la stessa. Se abbiamo l'insieme generale dei numeri, abbiamo due sotto insiemi, che sono, ve lo provo a disegnare qua, vediamo se ho... Allora, ho un insieme generale di quelli che sono i... i number, quindi... questo è number, dentro number, io ho dei sotti insiemi che sono integer, double e long non ve lo sto a scrivere tutto, perché è estremamente lento e quindi non riesco a farlo velocemente. Quindi, se io faccio instance of di un oggetto che sta qua dentro, ovviamente è un integer, ma è anche un number. e quindi è utile pensare all'analogia insiemistica, perché vi consente di andare a verificare quello. Avere un riferimento di tipo number vuol dire che andiamo a pescare un qualcosa che sta qua dentro. E quindi, qualunque cosa sta qua dentro è un number, ma non sappiamo se è un integer, se è un double, se è un long, oppure se è qualcos'altro. Quindi, quando cerco di fare il cast da un number a un integer, sto dicendo quell'elemento lì è un integer, ma siamo sicuri? Può essere sicuro solamente il programmatore che sa esattamente che valore c'è dentro. Quindi, il downcast, sempre esplicito, è un qualcosa che scrive il programmatore perché sa che quel particolare valore, quel particolare riferimento, punta all'oggetto integer piuttosto che double o altro. Ok. Altri dubbi su questo? È importante che sia estremamente chiaro perché poi dopo utilizzeremo i cast in maniera, insomma, molto frequente e quindi è importante avere ben presente questa distinzione. Ok? Quindi il downcast mi permette di andare a utilizzare dei puntatori più specifici e quindi avere la possibilità di chiamare i metodi più specifici che sono definiti nelle sottoclassi. l'upcast mi permette di avere dei riferimenti più generici che quindi possono trattare in maniera indifferente tanti oggetti di tante classi diverse. Per quanto riguarda l'upcast cosa succede? L'upcast mi dice parti da un riferimento in questo caso è un riferimento di tipo integer e assegnano a un riferimento di tipo number. Il compilatore mi dice number è una classe di base di integer quindi la classe di nn è una classe di base della classe di 42 quindi dal mio punto di vista questo è sempre vero nel senso che pensate alla relazione insiemistica un numero può essere ovviamente un intero quindi tutti gli interi sono dei numeri e quindi un riferimento di tipo numero può puntare tranquillamente a un oggetto di tipo intero quindi l'upcast è sempre un cast tra riferimenti sì quindi up e downcast sono sempre tra riferimenti al contrario che è quello che abbiamo qua sotto non me lo fa fare in maniera automatica perché lui non sa esattamente che cosa c'è in quel riferimento ok allora se noi guardiamo il codice vediamo che nn è stato fatto puntare a 42 che è un integer quindi guardando il codice per noi è ovvio che questo downcast funziona ed è il motivo per cui il compilatore ciò lascia fare sta dando fiducia a noi come programmatori che sappiamo che in quel particolare istante durante l'esecuzione nn punta a un oggetto che è di tipo integer e quindi ci dice va bene se tu sei sicuro io ti faccio il cast e quindi trasformo il tipo del riferimento da number a integer attenzione io potrei anche scrivere double dd uguale cast a double dnn il compilatore non mi dice nulla dice va bene è ovvio che so benissimo che in fase di esecuzione in quel punto nn non punterà a un double non punterà a un integer per cui il risultato è class cast exception ok la virtual machine in fase di esecuzione il compilatore non lo può sapere ma la virtual machine si perché in fase di esecuzione sa nn a che cosa punta trova che nn punta a un oggetto integer cerco di fare un cast a double double non è né sottoclasse né superclasse di integer quindi class cast exception domanda integer i uguale a nn questo qui è sostanzialmente un riferimento di tipo integer scusate un riferimento di tipo number che viene convertito a un riferimento di tipo integer nn è un riferimento number converto quel tipo di riferimento a integer l'oggetto ripeto in tutti i cast tra riferimenti non cambia è sempre lo stesso cambia solo se potete pensare in questo modo il modo di vedere quell'oggetto ok il riferimento vi dice il tipo di finestra attraverso cui riuscite a vedere l'oggetto lo potete vedere con una finestra più ristretta che è number oppure con una finestra un po' più estesa che è quella che vi permette di vedere non soltanto i metodi definiti dentro number ma anche quelli definiti nella classe integer che essendo classe più specifica è un po' più ampia ricordatevi che la realitarietà aumenta quindi può aggiungere attributi e metodi a una classe di base quindi la classe di base è più ristretta più specifica la classe derivata è più ampia in termini di metodi presenti più ristretta la classe più grande sarà l'insieme corrispondente nel senso che ho meno requisiti e quindi più classi sono compatibili con quello nn sempre di tipo number sì allora domanda quando andiamo a fare double di d uguale double nn nn sempre di tipo number attenzione nn è riferimento il riferimento è di tipo number che punta un oggetto di tipo integer risultato il compilatore mi dice che sì ha senso fare questo tipo di conversione in fase di esecuzione la java virtual machine ci dice class cast exception mi dispiace ho cercato di convertire un oggetto che è effettivamente di tipo integer in un e farlo puntare da un riferimento di tipo double questo non è possibile perché queste due classi non sono compatibili attenzione una cosa che invece il compilatore non mi lascia fare è andare a dire dd uguale cast a double di i questo perché perché vi riprendo il diagramma delle classi mentre posso passare da number a double e da number a integer non posso passare da integer a double perché queste non sono collegate da nessun legame di realitarietà se noi avessimo una classe che si chiama non so roman number quindi numero romano che è una sottoclasse di integer ecco in questo caso posso passare da roman number a integer da roman number a number ma non da double a roman number e posso seguire semplicemente verso l'alto o verso il basso le relazioni di ereditarietà in java roman number extens integer integer extens number e double extens number un po' Ok? Quindi il compilatore mi consente di fare esplicitamente dei cast che ovviamente seguono i legami di ereditarietà dalle classi. Una volta che sono rispettati questi legami, il compilatore me lo lascia fare. Ovviamente in fase di esecuzione la virtual machine andrà a controllare che effettivamente l'oggetto puntato veramente in quell'istante sia di un tipo compatibile. Ok. Penso che abbiamo esplorato abbastanza tutti questi aspetti. Direi che a questo punto possiamo fare una pausa, una decina di minuti. Io faccio 11.35 quindi riprendiamo alle 11.45 e vediamo come in realtà i nostri legami di ereditarietà sono ancora più estesi perché esiste una classe di base comune a tutte le classi che si chiama object. ma questo dopo la pausa. Ok. Allora, parto dalla domanda che c'è in chat e vi faccio un altro esempio all'interno di una nuova classe così è isolato dall'altro ed è più facile da comprendere. Quindi, esempi override. Allora, abbiamo la nostra classe di base. Abbiamo il nostro, me le metto qua come sottoclassi invece di mettere fuori così sono tutte raggruppate nello stesso punto. Quindi abbiamo static, class impiegato, string nome, public, abitiamo anche il public, quindi void print e questo è un system.out.println di nome. Nome. Lo inizializziamo così per semplicità Maria Drago Qui abbiamo la classe manager direttore ring dipartimento che sostanzialmente fa un system.out.println di nome più dipartimento ovviamente direttore è una classe che estende impiegato e poi terza classe mi chiudo un po' di finestra così forse riusciamo a vederlo bene terza classe mega direttore mega direttore estende direttore direttore e qui azienda e diciamo che l'azienda potrebbe fare un system.out.println l'azienda azienda due punti più il nome dell'azienda e qui fare un super.println super.println metto dei valori metto dei valori di default così se io ho mega direttore md uguale new mega direttore e faccio md.println ovviamente abbiamo già visto andiamo a chiamare il metodo print del mega direttore ok ok azienda e il dipartimento e tutto questo funziona anche se invece di utilizzare un riferimento di tipo mega direttore utilizzo un riferimento di tipo impiegato uguale md ok upcast implicito in questo caso faccio i.println ottengo esattamente lo stesso risultato parte il meccanismo del dynamic binding la virtual machine va a vedere l'oggetto puntato da i di che tipo è è un oggetto di classe mega direttore all'interno di questa classe esiste un metodo print sì allora lo eseguo e quindi ho sostanzialmente la stessa stampa la domanda in chat era ho in qualche modo dato un oggetto di tipo mega direttore di andare a chiamare questa stampa qui questo metodo print della classe di base employee la risposta è no è impossibile perché perché sostanzialmente a meno che non vada chiaramente a dargli un altro nome o lo ma nel momento in cui la classe direttore come vediamo va a fare un override del metodo print della classe di base se io ho un direttore se io ho un direttore non posso dall'esterno esplicitamente andare a chiamare il metodo print della classe di base ok la regola dell'override impediscono di fare questa operazione posso dall'interno come ho fatto qui dentro print andare a dire va bene vado a chiamare il metodo print della classe di base direttore ovviamente non ho un scusatemi non ho la possibilità di fare un super super print ok perché è una roba di sintassi quindi sostanzialmente l'idea è che se un metodo ridefinisce fa l'override di un metodo della classe di base significa che quel metodo della classe di base è invisibile a partire da oggetti di quelle della classe derivata quindi non esiste alcun modo domanda potremmo chiamare il metodo super print all'interno della classe print certo quindi io qui dentro potrei fare super print e quindi andare a chiamare quello della classe di base questo lo posso fare ma è una decisione di direttore che va a vedere la sua classe immediatamente superiore oppure qui potrei andare a mettere un metodo che chiama void print impiegato che sostanzialmente fa super .print a questo punto sì io qui potrei andare a prendere il megadirettore e a fare md .print impiegato ok quindi un modo di aggirare il tutto c'è però lo devo fare esplicitamente il linguaggio per il suo comportamento standard mi blocca questo meccanismo ok quindi ci sono delle scorciatoie solo che le devo fare devo metterle io esplicitamente e se non le metto esplicitamente il linguaggio java mi nasconde quello che di cui ho fatto l'override d'altronde se ho fatto l'override perché quello che c'era sopra non andava bene per una specifica classe e quindi se ho fatto l'override dico in quella classe la stampa deve essere fatta così non ha senso che poi vada a consentire a qualcuno di dire va bene io voglio il direttore però una stampa diversa se serve una stampa diversa ci sarà un altro metodo con un altro nome che mi permette di farla è normale che in questo caso mi stampi anche il dipartimento sì perché di fatto vedete che faccio un super punto print e il print qui sopra stampa il nome e il dipartimento e con il print impiegato ovviamente ovviamente no nel senso che print impiegato mi stampa esclusivamente il nome quindi vedete questo è il print primo quest'altro è il print impiegato che quindi salta e questo è l'altro print che è sostanzialmente identico al primo perché è indifferente il tipo di riferimento che sto usando perché il meccanismo di dynamic binding va a chiamare il metodo definito nella classe effettiva dell'oggetto puntato non della classe del riferimento mentre siamo qui io qui ho messo un'inizializzazione è ovvio che se io vado a mettere un costruttore quindi vado a mettere impiegato aperta chiusa tonda nome che è una stringa dis.nome uguale nome questo crea dei problemi in direttore perché come faccio a costruire un direttore l'idea è che direttore sostanzialmente è una classe che è uguale impiegato con in più qualcosa di esterno ok e quindi è come se prendessimo la classe di base e aggiungessimo incollandolo qualche elemento in più il punto è come faccio a costruire un impiegato se l'unico costruttore che ho richiede una stringa il costruttore che può essere generato in maniera automatica dal compilatore come fa a passare questo questo parametro per cui quello che posso fare è ovviamente andare a definire un metodo scusate un costruttore direttore che riceva una stringa che è il nome e la passi al costruttore della classe di base con super e nome quindi sostanzialmente questo passa al costruttore di impiegato il parametro richiesto ok il costruttore richiede un parametro di tipo stringa e questo sostanzialmente gli dice che valore ha questo parametro ok questo approccio di prendere un parametro e passarlo direttamente al costruttore della classe di base è un qualcosa che viene fatto molto spesso è abbastanza comune ma non è obbligatorio io potrei anche andare a definire un costruttore senza parametri in cui passo devo per forza passare qualcosa al costruttore della classe di base perché ne ha bisogno quindi devo passargli qualcosa faccio un super e qui e passo un valore di default ok va bene in tutti e due casi quello che avviene addirittura più spesso è di avere un costruttore che ha come parametri il dipartimento e il nome dove il dipartimento serve per questa classe e il nome serve per la classe di base super nome e poi dis punto dipartimento uguale a dip allora domanda implicit super constructor è l'errore che ottengo quando non metto questo super mi dice implicit super constructor impiegato is undefined ovvero non è definito un costruttore implicito senza parametri e devo esplicitamente andare a passare la chiamata con questo super ok in questo caso qui ho super e dis domanda posso invertire queste due queste due linee no no perché la regola è che la costruzione parte dal classi più generali ovviamente se io metto prima dis dipartimento e dopo dip diciamo che vado a mettere a inizializzare il dipartimento prima di aver costruito quello che stava sopra e ovviamente questo mi viene segnalato come un errore ok se metto super non come prima istruzione mi dice constructor call quindi la chiamata al costruttore della classe di base deve essere il primo statement in un costruttore ok quindi il super è sempre la prima chiamata dentro un costruttore quindi questo di nuovo è un qualcosa che io faccio abbastanza comunemente se ho dei costruttori che richiedono dei parametri ricevo parametri miei il dipartimento parametri che servono al costruttore della classe di base passo questi ultimi al costruttore della classe di base e uso gli altri per inizializzare l'oggetto la parte di oggetto derivata se non ho bisogno di nulla semplicemente vado a passare i parametri oppure potrei anche dire va bene inizializzo il costruttore della classe di base con una costante e non non mi importa nient'altro a questo punto vedete che nel nostro megadirettore non c'è il problema di prima perché esiste questo costruttore implicito ovvero costruttore senza parametri se non ci fosse questo anche la classe megadirettore ha il problema perché mi dice che c'è e manca un costruttore implicito ok quindi se non c'è questo il costruttore di megadirettore vorrebbe chiamare un costruttore con uno o due stringhe però non sa cosa passagli quindi devo dirglielo io esplicitamente se invece questo costruttore è presente il compilatore può costruire un costruttore diciamo così implicito di megadirettore che chiama il costruttore senza parametri di direttore allora domanda perché chiama 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 fa la stampa di tutto perché è proprio il funzionamento dell'anami binding non importa il tipo del riferimento i metodi ereditati vengono eseguiti con il dynamic binding ovvero il compilatore va a vedere il tipo effettivo dell'oggetto puntato se in quel tipo è definito il metodo print chiama quello e se ne frega di tutte le classi precedenti quindi il dynamic binding prevede questo tipo di comportamento quindi anche cambiando il tipo di riferimento non cambia assolutamente la variante di metodo che viene chiamata ed è sempre quella definita nella classe effettiva dell'oggetto puntato avrei la stessa cosa non l'ho fatto ma se avessi direttore d uguale md e faccio d.print di nuovo la stessa cosa ok qualunque sia il tipo di riferimento il dynamic binding lo ignora e va a vedere il tipo effettivo dell'oggetto attenzione il dynamic binding è un qualcosa che funziona a runtime durante l'esecuzione i controlli invece sul tipo del riferimento sono quelli che vengono fatti dal compilatore in fase di compilazione quando non ho ovviamente informazioni su qual è il tipo effettivo dell'oggetto puntato ora se io guardo il codice è ovvio che so che qui i punterà a un oggetto di tipo megadirettore ma il compilatore non fa questo tipo di inferenze ok il compilatore va a vedere questa linea e dice qui ho un riferimento megadirettore qui ho un riferimento impiegato lo converto benissimo si dimentica quella linea e va a vedere questa linea i di che tipo è impiegato quindi esiste un metodo print dentro impiegato sì allora questa chiamata è corretta quale variante di print verrà chiamata effettivamente durante l'esecuzione il compilatore non lo sa è un qualcosa che decide la java virtual machine nel momento in cui viene eseguito e nel momento in cui sa perché ovviamente risale all'oggetto puntato da i che i è di tipo megadirettore allora chiamerà la sua variante ovvero questa qui che vi sto evidenziando adesso ok allora torniamo indietro di qualche lezione e andiamo a riprenderci scusate allora salvo questo e andiamo a riprenderci la nostra lista ok la nostra lista di interi domanda queste sono delle caratteristiche che rendono java parzialmente interpretato immagino ti riferisca al dynamic binding non esattamente nel senso che il dynamic binding funziona anche con linguaggi che non sono assolutamente interpretati come ad esempio cppp la realizzazione è leggermente diversa perché in cppp ci sono delle tabelle chiamate vtable che vengono che vengono consultate a runtime per fare un dopo indirezione capire qual è il puntatore alla funzione da chiamare dynamic dynamic può essere può essere realizzato anche senza nessuna interpretazione quindi anche senza una virtual machine i dettagli dell'implementazione ovviamente cambiano un pochettino se c'è una virtual machine però il tipo di comportamento ovvero vado a vedere il tipo dell'oggetto effettivo e chiamo il metodo definito in quel tipo è realizzabile anche senza interpretazione quindi anche senza virtual machine quello che invece non posso fare senza virtual machine che però non c'è in java ma c'è nei linguaggi non fortemente tipizzati è quello che si chiama il duck typing ovvero consentire la chiamata di qualunque metodo senza nessun controllo e andare poi a vedere a runtime se effettivamente l'oggetto puntato ha quel metodo è ovvio che se non ci sono questi controlli buona parte dei messaggi d'errore che voi avreste in java in fase di compilazione in altri linguaggi vi cito python per esempio che è quello forse più più noto non ci sono in fase di compilazione ma ve li ritrovate poi in fase di esecuzione però anche lì il meccanismo poi di dynamic binding è di nuovo analogo veniamo alla nostra lista di interi se invece di avere una lista di interi io volesse avere una lista di qualunque cosa ovvero volesse avere una classe lista in cui posso andare a memorizzare qualunque tipo di oggetto come faccio? in realtà tutto questo si riconduce a se io voglio avere un riferimento che mi può puntare a qualunque oggetto in in C esiste il puntatore a void ok quindi io vorrei avere l'equivalente di void puntatore oggetto oggetto che punta a qualunque tipo di oggetto non posso avere esattamente la stessa cosa perché puntatore a void è la cosa meno controllata che esista in Java noi invece abbiamo un controllo attenzione se è un riferimento quello devo garantire che funzioni di dynamic binding funzioni di polimorfismo upcast e downcast effettivamente rispettino tutte le regole e quindi non ho l'esatto equivalente ma esiste un qualcosa di simile ed è la classe che si chiama object la classe che si chiama object è una classe che è implicitamente la classe di base di qualunque classe esista in Java per cui se torniamo agli esempi che facevamo nella prima parte della lezione number che è classe di base di integer double e long in realtà number è una classe che estende un'altra classe di base che si chiama object quindi per quello che abbiamo detto finora su upcast downcast e polimorfismo io posso fare un upcast di qualunque classe a object se object è la classe più generale tutte le altre classi sono un caso particolare e quindi object se volete è l'insieme universo di tutti gli oggetti che possono esistere in Java o meglio corrisponde all'insieme universo di tutti gli oggetti che possono esistere in Java quindi qualunque oggetto può essere puntato da un riferimento di tipo object e questo è già un aspetto molto interessante ok per cui se io voglio andare a costruire la mia lista generica che sia in grado di memorizzare valori di qualunque tipo ecco che la posso costruire utilizzando un riferimento di tipo object quindi se torniamo qua io mi prendo una nuova classe nuova classe lista oggetti non sto a dedicarci troppo tempo perché in realtà esiste già una classe lista fatta molto meglio di quella che potremmo fare noi ok quindi la scrivo molto molto velocemente quindi abbiamo static class nodo abbiamo un object valore ok e un nodo prossimo e poi ho un nodo testa public void aggiungi object valore fatemi mettere un costruttore nodo di object valore nodo prossimo che sostanzialmente mi dice dis punto valore uguale valore e dis punto prossimo uguale a prossimo quindi qui scrivo testa uguale new nodo di valore virgola testa public void scusate public object testa e mi fa un return di testa punto valore e posso avere anche un object un public object estrai così la vediamo tutta estrai testa sostanzialmente mi dice nodo t uguale testa testa uguale t punto prossimo e return t punto valore sostanzialmente rimuove l'elemento in testa e restituisce un puntatore a quel valore ok mettiamoci anche un public int conta return numero elementi numero elementi lo possiamo mettere qui come intero che andiamo a incrementare quando facciamo raggiungi e andiamo a decrementare quando facciamo le stai ok quindi tanto per riepilogare abbiamo una classe nodo statica perché non ci interessa che abbia un riferimento all'oggetto lista l'ho già visto un po' di esempi un paio di lezioni fa statico vuol dire che è una classe indipendente l'unico aspetto è che è dichiarata dentro l'istra oggetti e quindi non è visibile all'esterno quindi questo ci dà se volete possiamo anche mettere private ok è una classe che è utilizzata soltanto qui dentro ed è visibile soltanto qua dentro poi ho un private nodo testa e un private int numero elementi gli altri elementi sono pubblici quindi non so com'è fatta dentro la classe dall'esterno aggiungi testa estrai testa e conta ok quindi l'idea è che io posso avere un riferimento di tipo object object che è uguale a qualunque cosa ad esempio una stringa va benissimo object è la classe di base quindi quello è un upcast ovviamente implicito e funziona sempre quindi data la mia lista di oggetti io posso andare a dire list oggetti l uguale new lista oggetti ovviamente devo importarlo ok e a questo punto posso fare l punto aggiungi ciao e posso fare object primo uguale l punto testa ovviamente di un object non mi faccio molto però quello che posso fare è fare ad esempio uno string string s uguale cast a stringa di primo questo qui è un down cast e stringa deriva da object e posso fare ad esempio system out println s quindi il risultato è la stampa della stringa che ho inserito e poi estratto dalla mia lista di interi ovviamente dentro la mia lista io posso andare a mettere l punto aggiungi ad esempio integer punto value of il mio 42 posso mettere un l punto aggiungi double punto value of 3 punto 14 ok sono degli oggetti e quindi li posso mettere tranquillamente dentro la mia lista vi torna ovviamente mettere dentro una stessa lista oggetti tipo diverso è un po' problematico ok anche perché quando vado a estrarli non so bene di che tipo siano ok per cui in generale quando ho una lista è bene mettere dentro dei tipi dello stesso tipo ok dei valori dello stesso tipo altrimenti se l'estrazione la faccio in un punto diverso del programma rispetto a dove faccio l'inserimento il risultato è che non so bene di cosa c'è dentro quindi ho uso degli distance over per capire di cosa si tratta oppure potrei avere dei problemi ok questo vi torna domanda come mai in modo l'abbiamo creato a statica non interna perché in realtà nodo non accede a nessun elemento della classe lista e quindi è inutile crearla interna statica è quello più semplice è inutile aggiungere delle caratteristiche come il fatto di essere legato a un oggetto contenitore se poi non le sfruttiamo questa è la logica ovviamente se io l'avessi creata come classe semplicemente interna e non statica non sarebbe cambiato assolutamente nulla nel senso che funzionava allo stesso modo ok a questo punto immaginiamo di voler andare a prendere tutti gli elementi che stanno dentro la nostra lista e andare a stamparli uno per uno quindi che cosa faccio faccio object corrente while l punto conta e maggiore di zero corrente uguale a l punto estrai testa quindi tolgo l'elemento in testa e poi vado a stampare come faccio a stampare quel corrente sarà alla prima iterazione un double alla seconda iterazione un integer alla terza iterazione una stringa qui oggetti abbastanza diversi tra di loro tuttavia molto spesso capita di andare a prendere degli oggetti molto diversi e stampare un loro contenuto ok per questo motivo chi ha costruito e pensato la classe object ha avuto l'idea di mettere dentro un metodo anzi più di un metodo che potessero essere utili per andare a fare operazioni di routine comuni a tutti gli oggetti uno di questi metodi è per l'appunto il metodo toString se io scrivo corrente punto corrente punto vedete che Eclipse mi dà una serie di suggerimenti tra cui questo metodo toString che come scrive qua restituisce una rappresentazione stringa dell'oggetto quindi quello che faccio è andare a dire string S quindi stringa uguale a corrente punto toString e poi system punto out punto print ln di stringa quindi sostanzialmente estraggo la testa della lista converto in stringa e la stampo ok tenete presente che io qui ho corrente e corrente è un puntatore di tipo object un riferimento di tipo object quindi mi permette di invocare soltanto metodi che siano definiti dentro la classe object che sono quei pochi che abbiamo visto velocemente che adesso poi rivediamo più con calma quindi l'idea è posso andare a fare questa operazione perché qualcuno ha pensato di mettere dentro la classe object un metodo che si chiama toString che permette di fare la conversione e come viene fatta questa conversione viene fatta bene quindi se io vi lancio la stampa abbiamo 3.14.42 ciao quindi quando io chiamo il metodo toString sull'oggetto di tipo double quello che ottengo è la rappresentazione 3.14 o 3.14 a seconda del linguaggio che avete impostato di quel valore floating point questo significa che double ma anche integer e anche string hanno un metodo che fa l'override del metodo toString definito originariamente dentro la classe object che genera una stringa coerentemente con quello che è la rappresentazione dell'oggetto quindi numero floating point intero oppure stringa in realtà quando una stringa ho ben poca conversione da fare nel senso che è l'oggetto stesso però sostanzialmente l'idea è che io tutte le classi che vado a creare hanno un una rappresentazione stringa perché sostanzialmente ridefiniscono il metodo toString nel modo ragionevole per quella classe domanda non è detto che tutte le classi abbiano il metodo toString allora detto così è ambiguo tutte le classi hanno un metodo toString perché bene o male è quello che ereditano da object non tutte le classi hanno un override del metodo toString e quindi non è detto che siano in grado di stampare un valore significativo quindi sì e no potrebbe essere c'è sicuramente nel senso che posso chiamarlo ma non è detto che sia fatto ad hoc per quella classe potrebbe essere quello generale definito nella classe di base toString se io vado a mettere qui la nostra classe tattica class persona di nuovo fatemelo fare direttamente qui così evito di aprire un altro un altro file immaginiamo di avere una stringa nome e basta ok se io vado a mettere anche qui dentro un new persona cosa succede? lo vediamo subito questo persona mi dà questa stampa quindi in realtà il metodo toString definito nella classe object non è che non fa nulla qualcosa fa mi restituisce una stringa la stringa è questa ed è strutturata in questo modo nome della classe nome completo della classe che vuol dire nome del package scusate fino qua nome della classe contenitore esempio object dollaro nome della classe interna ok non l'abbiamo visto quando abbiamo parlato delle classi annidate ma il nome delle classi annidate viene costruito a partire dal nome della classe contenitore con dollaro successivo e il nome della classe e poi chiocciola e questo numero quel numero è quello che si chiama l'hashcode che è un codice univoco dell'oggetto immaginate che sia l'indirizzo in memoria non è esattamente quello ma ci assomiglia ok quindi il risultato non è quello che voglio quindi se invece io volessi stampare invece stampando una persona stampare il suo nome quello che posso fare è andare a mettere qua un public string to string return nome e a questo punto se lo eseguo ecco che ottengo la stampa perché? perché ho fatto l'overwrite attenzione che il nome del metodo di cui faccio l'overwrite deve essere esattamente quello giusto per cui se lo scrivo con la s minuscola il risultato è quello di prima nel senso che non lo trovo ok ha necessità che il nome sia esattamente quello ok per questo motivo solitamente perché la s maiuscola minuscola il nome i parametri la a in fondo eccetera possono scappare normalmente quando vogliamo fare un override è buona norma aggiungere un chiocciola override vedete un'altra annotazione dopo quelle che abbiamo visto per junit questa è un'altra annotazione che però viene utilizzata esclusivamente al compilatore quando andiamo a scrivere chiocciola override il compilatore il compilatore il compilatore capisce che quello che vogliamo fare dopo è l'override di un metodo e quindi verifica che effettivamente quello sia un override ovvero che nella classe di base o in una delle classi di base esiste un metodo che ha quel nome e eventualmente quei parametri quindi in questo caso mi dice guarda che il metodo toString dovrebbe fare l'override di un metodo di una classe di base cioè stai facendo l'override di qualcosa che non esiste quindi hai sbagliato qualcosa per cui se ad esempio mi accorgo che l'ho chiamato toString e non toString ecco a questo punto il compilatore non mi dice nulla nel senso che effettivamente quello è un override e quindi sono sicuro quindi la raccomandazione è quando fate un override dichiaratelo perché così il compilatore può fare un controllo in più e quindi se scrivete qualcosa di sbagliato ve lo segnala non è strettamente necessario nel senso che tutto funziona anche senza quello però è un piccolo vantaggio che vi permette di andare a essere sicuri che il compilatore faccia un controllo extra e tutto corrisponda perché come avete visto se io sbaglio quel nome il meccanismo di dynamic binding ovviamente non lo trovo perché ha un nome diverso e quindi non fa quello che io ho in mente ok quindi il metodo toString c'è quando io vado a creare una classe ragionevolmente insomma nel 90% dei casi è bene che vada a definire anche un metodo toString perché può essere utile stamparlo ok le classi predefinite delle librerie standard hanno ragionevolmente già un metodo toString definito infatti integer table ovviamente string long ok un po' queste classi di base hanno tutte già sono state tutte definite con un metodo toString che ci dà il risultato che noi ci aspettiamo il metodo toString è molto utile se vogliamo andare a fare operazioni di debug quindi stampare il contenuto di un oggetto durante l'esecuzione se vogliamo andare a fare un log di quello che stiamo facendo quindi in generale molto spesso quando costruisco una classe vado a mettere un metodo toString domanda il lega modifier for local class persona dipende qual è l'illegal modifier perché se la dichiari come static class dentro la classe principale non importa se nel package hai altre classi che si chiamano nello stesso modo sostanzialmente sono classi definite in due contesti diversi quindi non dovrebbero esserci problemi attenzione che la classe io l'ho dichiarata qui fuori dal metodo main c'è un'osservazione prima posso stampare posso estrarre testa e poi fare estrai testa sì sicuramente posso fare corrente uguale a testa e poi fare l punto estrai testa alla fine togliendolo un'altra cosa che si poteva fare è quello sto per farvi ora cioè invece di fare queste tre linee che sostanzialmente fanno le operazioni passo passo avrei potuto tranquillamente andare a scrivere system.out.println l punto estrai testa aperta chiusa tonda perché funziona? perché sostanzialmente println vi faccio vedere la documentazione qui online println è un metodo che ha tanti overload ovvero all'interno della stessa classe tanti metodi che hanno lo stesso nome ma con parametri diversi l'override invece è tra classi diverse ok quindi non confondete overload con override anche se hanno l'iniziale uguale sono due meccanismi diversi quindi l'overload permette di andare a sovraccaricare un nome definendo tante varianti all'interno della stessa classe l'override invece mi permette di andare a ridefinire un metodo che è già stato definito nella classe di base l'override prevede di avere un metodo che è scritto esattamente nello stesso modo stessa visibilità stesso tipo di ritorno stessi parametri e ovviamente stesso nome tra i tanti overload del metodo println nella classe printstream che è la classe dell'oggetto system.out ce n'è uno che ha come parametro un object che cosa fa questo metodo println sostanzialmente prende l'oggetto che gli viene passato chiama toString e stampa quella stringa ok quindi fa esattamente quello che abbiamo fatto noi prima nelle poche righe che vi ho commentato quindi sostanzialmente è proprio compatto come scrittura però le operazioni che svolge sono esattamente le stesse quindi prende un oggetto converte in stringa con il metodo toString e poi lo lo stampa il metodo toString è anche utilizzato quando io vado ad esempio stampare vado a scusate a concatenare una stringa con qualcos'altro vedete io qui ho una stringa più che cos'è questo un oggetto come viene gestita questa situazione ovviamente la stringa è una stringa e quindi va bene il più mi richiede di fare una concatenazione ovviamente devo fare la concatenazione tra una stringa e un'altra stringa se lì avessi un numero il numero verrebbe convertito in string e poi fatta la concatenazione nel caso di un oggetto quello che avviene è che viene chiamato il metodo toString e il risultato del metodo toString viene concatenato con quella stringa con la stringa di partenza ok quindi il fatto di avere il metodo toString predefinito in object mi permette di fare tante operazioni di questo tipo quindi la conversione in stringa la posso sempre fare bel vantaggio se stampo ottengo aspetta un po' l'ho salvato esattamente quello che avevo prima con il trattino e lo spazio davanti quindi la classe object ci fornisce due grossi vantaggi il primo vantaggio è quello di avere un riferimento che possiamo chiamare universale ok per il polimorfismo essendo object classe di base diretta o indiretta di tutte le altre classi posso sempre e comunque fare un'operazione di upcast da qualunque tipo di riferimento a un riferimento object e questo è sempre sicuro perché qualunque oggetto è per l'appunto un oggetto inoltre visto che già c'erano la classe object ospita una serie di metodi predefiniti che consentono di fare alcune operazioni che possiamo considerare comuni a tutti gli oggetti quella più utilizzata forse più comune più utile è la conversione di un oggetto in una stringa per poterla stampare per cui la classe object definisce questo metodo to string che poi è ridefinito tramite override in tutte le sottoclassi per cui tutte le sottoclassi diciamo delle librerie o buona parte delle sottoclassi delle librerie ridefiniscono il metodo to string e quindi io posso tranquillamente andare a convertire questo oggetto in una stringa oppure concatenarlo quindi implicitamente fare la conversione e concatenare senza dovermi preoccupare ovviamente se voglio che questo comportamento sia disponibile anche in classi che scrivo io non quelle di libreria devo come abbiamo fatto quassù andare a ridefinire il metodo to string in modo che costruisca una rappresentazione stringa del mio oggetto domanda cosa succede se io faccio system out println di l la mia lista lo potete provare vedete il risultato io vorrei che questa cosa stampasse idealmente una stringa che è quadra 3.14 virgola 42 virgola 32 virgola anzi se vogliamo evitare la confusione tra virgole mettiamo punte virgola e poi la stringa ciao come posso fare in modo che mi stampi questa cosa esercizio per le vostre notti insonni in preparazione del prossimo della prossima lezione domanda più avanti faremo esercizi per vedere gli argomenti che abbiamo fatto sì allora questo per il momento è illustrativo sono esempi molto minimi tra un po' inizieremo a fare qualche esercizio un pochettino più sofisticato che metta assieme tutto quello che abbiamo visto adesso stiamo cercando di andare avanti e di parlare di ereditarietà in modo che ci sia un minimo di elementi base una volta che abbiamo finito l'ereditarietà gli elementi importanti ci sono e quindi a quel punto possiamo vedere esercizi un po' più un po' più articolati risposta ci vuole un metodo apposito in realtà sì ci vuole un metodo apposito che si chiama toString potrei convertire la lista in un array di object potrebbe essere sì allora viene chiamato automaticamente un eventuale metodo toString nella lista se è presente esattamente se non è presente ci restituisce una rappresentazione analoga a quella che abbiamo visto prima quindi nome della classe chiocciola lashcode e quindi l'idea è devo andare a fare un override del metodo toString anche all'interno di lista della nostra lista oggetti ok ovviamente oltre a toString la classe vediamo se riusciamo a vederlo ecco oltre a toString la classe object ha una serie di altri metodi equals ad esempio che abbiamo già visto hashcode e un paio di metodi che si chiamano clone e finalize che vi menziono perché li vedete ma di cui insomma parleremo veramente poco comunque toString equals ed hashcode sono invece importanti e ne parleremo un po' di più li rivedremo velocemente nella nella prossima lezione in ogni caso domani vi pubblico una lezione in cui riprendo questi argomenti un pochettino più nel dettaglio e anche questi altri metodi di cui vi ho appena accennato direi che con questo possiamo concludere la lezione di oggi avrete una domani una nuova lezione asincrona e noi ci rivediamo lunedì per riparlare di questi argomenti e andare avanti con con l'ereditarietà posso far vedere l'ultimo metodo conta sì allora siamo nella classe esempio oggetti scusate lista oggetti metodo conta era questo ok quindi con questo chiudiamo la nostra registrazione ok